Esattamente sono due bandi che nell'ambito dell'assessorato che mi onoro di presiedere, quello dell'assessorato alla programmazione europea, ci consentono di utilizzare un asse importante che è l'asse terzo, obiettivo terzo, su due linee di intervento, che uno fa riferimento alla promozione turistica e l'altro invece alla valorizzazione dell'identità culturale. Con questo atto di indirizzo politico abbiamo incaricato il dirigente a predisporre tutti gli atti necessari per partecipare a questi bandi che hanno scadenza il 21 ottobre, il primo e il secondo, il 2 novembre e che consentirà di attingere a due dotazioni rispettive di finanziare, la prima di 10 milioni di euro e la seconda di 18 milioni di euro, sono delle somme messe a disposizione per tutti i comuni. Ovvio che noi con questi bandi intendiamo valorizzare i nostri siti archeologici e come punto di riferimento abbiamo così dato un input al dirigente ben preciso che è quello di valorizzare il castello di Chioramonte per fare in modo che venga messo a disposizione e venga reso fruibile nei confronti dei turisti perché assolutamente il castello di Chioramonte non può ridursi semplicemente a mero spazio, luogo fisico dove condurre convegni e seminari che sono assolutamente necessari ma dobbiamo assolutamente rendere attraverso queste idee progettuali fruibili al turismo.